ciao a tutti ragazzi buongiorno ben ritrovati sul canale se è la prima volta che ti sintonizzi io sono Roby all'interno del canale parliamo di profumi in particolare quelli del mondo arabo o medio orientale allora innanzitutto volevo darti il benvenuto se ovviamente come ti dicevo è la prima volta quindi ti invito ad iscriverti attiva la campanella che resti sempre aggiornato su tutte quelle che sono le novità del canale e non solo per tutti gli altri ben ritrovati buon lunedì a tutti quindi buon inizio settimana allora apro con una notizia importante finito il weekend per quanto riguarda lo shop quindi su www.roby1976.it poi ti lascio sempre qua in alto l'indirizzo è terminato lo sconto del 10 per cento sul sul sito quindi grazie a tutti i colori che hanno acquistato sul sulle shop a breve arriverà il corriere a ritirare a consegnare per consegnarvi i pacchi allora oggi apro con un'altra bella notizia secondo me che da lunedì quindi da oggi fino a venerdì senza alcun limite di spesa sullo shop avete diritto alla spedizione completamente gratuita allora partiamo con quello che è un po un nuovo format che ho voluto inserire all'interno della rubrica come vedete già dalle immagini oggi voglio parlarvi di tre profumi di lattafa quindi non del solito singolo profumo testato anche perché ho avuto modo già di sentirli ho avuto modo già di utilizzarli e quindi voglio portarvi un attimo un po una breve considerazione di quello che è insomma di quello che mi hanno lasciato questi questi tre profumi che utilizzo regolarmente e molto spesso cos'hanno tutti e tre in comune questi profumi in prima cosa hanno comunque un ottimo rapporto qualità prezzo indubbiamente perché trovate ala ea fac della serie pride di lattafa sul sito intorno ai 34 euro euro e 90 mentre amir alud intenso è qualcosa al di sotto appena al di sotto dei 24 euro tutti e tre questi profumi hanno come caratteristica diciamo primaria un'ottima un'ottima persistenza un'ottima un'ottima scia un'ottima proiezione e tutti e tre dal mio punto di vista sono decisamente utilizzabili soprattutto nel periodo autunnale invernale ho selezionato inoltre questi questi tre profumi che nell'ordine dal mio punto di vista partendo da amir alud è un perfetto unisex mentre per quanto riguarda invece a fac ritengo che sia un profumo più adatto al pubblico femminile mentre invece ala prettamente il profumo prettamente maschile direi partiamo con amir alud questo qui è il suo packaging quindi la sua bottiglietta come vedete già il livello è decisamente basso perché io lo utilizzo spesso soprattutto in questo periodo questo è un profumo che per quanto riguarda quelle che sono le note principali che vi lascio qua in sovraimpressione sicuramente si potrebbe sintetizzare il tutto dicendo che è un profumo che ha dei sentori di legno di agarre quindi di hud con della vaniglia sul cuore e dello zucchero delle lievissime note erbace sul finale questo però è un profumo veramente che ha una persistenza assurda perché vi garantisco che o al di là sulla pelle che andate tranquillamente tutta la giornata senza problemi ma sui vestiti quindi su magliette come queste in cotone normalissime è un profumo che fino a quando non lavate l'indumento non se ne va assolutamente ottimo un bel packaging una scatolina rettangolare bianca con dei disegni dorati e neri questo qui è un perfetto profumo unisex adatto soprattutto a quelle che sono le stagioni autunnali ed invernali questo è amir al hud intense hud e lo trovate sul sito a 23 euro e 90 voglio passare adesso alla serie pride sempre di lattafa con questo profumo si chiama ala è nel formato tutti e tre sono nel formato da 100 ml o dei parfum questo qui ragazzi è un profumo che mi ha lasciato veramente veramente a bocca aperta allora mi rivolgo ovviamente come vi dicevo prima al pubblico maschile questo è un profumo che se tu ami le spezie quindi gli speziati in questo caso particolare parliamo di uno speziato abbastanza fresco soprattutto in apertura questo è un profumo veramente veramente assurdo le note che prevalgono su su tutte sono il pepe e la noce moscata questo è un profumo che ha una persistenza e una scia che sono qualcosa di assurdo voi ormai mi conoscete lo sapete io difficilmente non sono un amante degli speziati non è il mio genere preferito voi lo sapete io amo comunque tutti quei profumi agromatici profumi freschi che mi danno l'idea di estate però qui devo riconoscere realmente che abbiamo un profumo che va ben oltre al di là di ogni singola aspettativa io ho avuto modo di sentirlo insieme a uno di voi da ad andrea che lo saluto noi ogni tanto ci vediamo per qualche considerazione e quant'altro questo qui è un profumo che veramente mi ha lasciato ripeto a bocca aperta al di là della persistenza al di là delle prestazioni in generale è un profumo veramente che a livello di fragranze speziate è qualcosa che io sono straconvinto che abbia tutte le carte in regola per giocarsela con profumi di un altro livello di un livello più più elevato e devo fare veramente i complimenti alla taffa per aver creato un profumo che lascia veramente veramente molto 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 soddisfazione ripeto l'apertura è fresca l'apertura è comunque speziata non ha una grandissima evoluzione ma proprio perché le note presenti non sono tantissime voi non non avete idea di che cosa sento io in questo momento però ecco questo sicuramente un profumo veramente se ti piacciono le spezie che devi assolutamente avere me ne è rimasto uno sul sito comunque arriveranno altri sono già in ordine a breve nell'arco di qualche una settimana qualche una decina di giorni c'è in previsione un nuovo nuovo ordine in arrivo la taffa della serie pride hala è veramente un profumo davvero davvero interessante siamo ora all'ultimo non per ovviamente motivi di di qualità o di fragranza parliamo di afac la il packaging come potete vedere è lo stesso identico di ala in questo caso ritengo che questo profumo sia veramente adatto ad un pubblico femminile anche qui poche note bilanciatissime ottime performance abbiamo in apertura una pera e un ribes nero che danno tantissima freschezza al profumo questo è un profumo versatile che può essere indossato secondo me in qualsiasi stagione anche nel periodo anche nel periodo estivo nelle note di cuore troviamo del del gelsomino quindi c'è una parte fiorita che però non è mai invadente non cerca mai di sovrastare le note le note fruttate buonissimo e bellissimo il contrasto tra ribes e la pera in chiusura ci sono delle delle lievi notti di cashmere e di legno legno di sandalo un profumo davvero davvero interessante per il pubblico femminile poi voi sapete che io con i profumi da donna ho questo rapporto dove vado un po a non capire il nulla ma questo profumo qui molto è molto probabile che io andrò ad utilizzarlo su su me stesso quindi su questi tre profumi veramente vi consiglio di tenere di tenerli in serissima considerazione rispondo ti ho già risposto claudia se mi stai seguendo profumi con delle notte di muschio bianco dovrebbe arrivarmi in settimana opulent mask di la tafa che secondo me è un altro profumo che ha un ottimo un ottimo rapporto qualità prezzo però ti consiglio anche di tenere in serissima considerazione questo questo profumo come al solito sugli ordini e quant'altro inizierò a mandarli fuori con i campioncini in caso vogliate acquistare qualcosa direttamente dal sito vi ricordo nuovamente che fino a venerdì 13 ottobre c'è la spedizione gratuita su tutto e senza alcun limite di spesa per il momento io non ho più nulla da dirvi spero soltanto che questo nuovo format sia di gradimento a voi e soprattutto sia magari un po più utile per avere un po le idee chiare e precise magari su su più prodotti e non minor tempo vi ringrazio a tutti per essere stati in mia compagnia per il momento è tutto un saluto da robin ciao a tutti e alla prossima a presto